Buon pomeriggio a tutti cari amici fan e bene prima di andare via di casa per gli altri impegni della giornata non posso non ricordarmi e ricordarvi che a partire dal 13 gennaio quindi tra tre giorni in diretta e tv in esclusiva su Rai Sport ed Eurosport 2 ci sarà la finalet di Coppa Italia del massimo campionato italiano di basket di Serie A partendo da giovedì 13 con le 18 Milano Cremona 20.45 Bologna Venezia venerdì 14 febbraio ore 18 Sassari Brindisi ore 20.45 Brescia Fortitudo Bologna sabato 15 febbraio ore 17.45 semifinale 1 parte alta del tabellone ore 21 semifinale 2 parte basso domenica 16 febbraio ore 18 la finale ricordatevi dal 13 al 16 febbraio finalet di Coppa Italia del massimo campionato italiano di basket di Serie A ciao